Voglia di un antipasto facile, gustoso? Allora devi provare le crescentine bolognesi, sono sfiziosissime, dai preparale insieme a me. Versa la farina nella ciotola di una planetaria, aggiungi lo strutto e il sale, impasta il tutto col gancio e a questo punto aggiungi il lievito di birra sciolto nel latte. Continua a impastare fino a che non avrai ottenuto un panetto liscio, compatto e omogeneo che si staccherà dalle pareti della ciotola. Versa l'impasto ottenuto su una spianatoia leggermente infarinata, lavoralo con le mani per qualche minuto e lascialo riposare per 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, stendi l'impasto allo spessore di mezzo centimetro. Dalla sfoglia ottenuta ricava delle losanghe con un coltello alla lama liscia ed ecco che avrai ottenuto le tue crescentine. A questo punto versa lo strutto in una casseruola e fallo sciogliere. Quando sarà pronto e ben caldo, friggi all'interno tutte le crescentine, pochi pezzi per volta, in modo da non abbassare la temperatura dello strutto. Friggile spesso durante la cottura e friggile fino a che non saranno ben gonfie e dorate. Quando sono pronte, togli le dal grasso con una schiumarola e ponile su un piatto con carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso. E tadan, eccole pronte, guarda quanto sono golose. Ora non mi resta che gustarle con una buona fetta di mortadella. Mmm, sono buonissime. Ti sono piaciute? Lasciami un commento.